Comando, l'abbiamo perso, come procediamo? Qui in comando, nemico ancora attivo, occhi aperti. Abbiamo perso il bersaglio, abbassiamo le armi per ora. E sta calda in salito? Ma che cazzo, sta calda in salito, guardalo, è un monoblustro. Nessun nemico, turno indietro. Perso contatto nemico, possibile attività nemica, vado a controllare. E' un diglap. E' un diglap. Da sottofatti, non l'hanno sott... Vedete che si incastrava. Forse c'è un problema. Passaggia!